La scuola è nata circa 14 anni fa, se ricordo bene nel 2002, ovviamente è nata con delle possibilità veramente piccole, siamo partiti qua con semplicemente un po' di erba e tanta voglia di fare. Oggi la struttura è veramente cresciuta molto ed ora stiamo iniziando i lavori per ampliare il campo e portarlo a 12-18 buche. Ovviamente sono buche par 3, pitch and pat, quindi un percorso corto, un percorso che ti impegna e ti ruba poco tempo a differenza delle classiche 18 buche che troviamo nei campi regolamentari. Il gruppo giovani oggi vanta quasi 40 bambini e dai 6 ai 12 anni come avevo detto sono suddivisi in due categorie, spesso e volentieri vengono suddivisi per il livello di gioco e non per l'età, quindi magari i bambini di 7 anni possono giocare insieme a quelli di 10 o di 11 e questo fa anche ancora più aggregazione perché mette comunque in comparazione anche determinati, tra virgolette, generazioni perché comunque oggi tra 6, 7 e 12 anni sono già quasi due generazioni diverse. La collaborazione con noi estra è nata in una maniera abbastanza semplice e noi abbiamo fondamentalmente, come credo tutte le società sportive, bisogno e viviamo grazie alle sponsorizzazioni e agli aiuti che vengono dati a questo circolo soprattutto per quanto riguarda il gruppo giovani che ha bisogno di tantissimo investimento e così facendo l'anno scorso abbiamo iniziato con una piccola collaborazione, ai ragazzi è piaciuta molto, quest'anno abbiamo rinforzato la collaborazione facendo proprio il club Estrasport Club e per noi è sinceramente un grande onore e una bella opportunità.